La sicurezza è fuori di te, mi sembra andato molto più che adesso. Si, cosa stima? Guarda che stiamo, tira sulle guardie. Sulle guardie, tira sulle guardie, tira sulle guardie. Bravo, vai. Ma che forte guarda il vestito. Tac, 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 coprati, coprati, tira. Ma sono forte. Forte. Uno, due. Così. Uno, due. Beccato. Tanto abituato il papà a prenderle. Beccato.